Non hai il coraggio di entrare lì, caga sotto! Lì dove? Nel laboratorio abbandonato? Dove c'è lo scienziato vecchio pazzo? No, 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 neanche per sogno! Scommetto questa bella Coca-Cola fresca che non hai il coraggio di entrarci! State zitti, entrateci voi visto che fate tanto i grandi! Aspetta, Polletta, Coca-Cola hai detto? Allora vado subito! Aspetta, Polletto, io vengo con te! Sei sicura? È molto molto pericoloso, dobbiamo fare molta attenzione! Qui potrebbero esserci molte cose strane, guarda qui, sembra tutto abbandonato! Siamo entrati, ora datemi la mia Coca-Cola fresca! No, 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 dovete arrivare fino in fondo se vuoi la Coca-Cola fresca, altrimenti la berrò tutta io! Uffa però, così non vale, scusatemi, siete degli imbruioni! Fino in fondo, voglio quella Coca-Cola! Va bene, andiamo! Sento un cattivo presagio, come se ci fosse... Parla piano, Polletto, potrebbe esserci qualcuno! Ok, facciamo piano piano, andiamo fino in fondo, hanno detto, ho tanta tanta paura! Ok, che cos'è qui? Sembra, sembra un passaggio! Wow, che cosa c'è qui? Oh mio Dio, è davvero un posto bruttissimo! Aspettami, Polletto, che vengo anch'io! Oh no, si è chiusa la porta! Aiuto, Polletta, aiuto! Oddio, Polletto, sono rimasta qui fuori da sola! Oh mio Dio, Polletta, ma qui è davvero tutto così strano! È davvero inquietante! Che cosa sono questi letti? Una mosca nel mio laboratorio! Oh mio Dio, è lo scienziato pazzo! Ma da dove è sbocato? Aiuto, aiuto, aiuto! No, che cosa mi sta facendo? Oh no, lo scienziato pazzo, che cosa mi vuole fare? Tranquillo, farà solo molto male! Molto male? Oh mio Dio, che cosa sta succedendo, Polletti? Oh mio Dio, sento qualcosa nel mio corpo! Oddio, che cosa, che cosa mi ha fatto? Ah 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 ah! Questa è la sostanza per diventare il grande mostro ciano! Ma questo è solo l'inizio! Sandu Khan! Oh no, Polletta, deve aver colpito qualche infiammabile! Sta andando tutto a fuoco! Ah, mi sto trasformando! Oh no, oh no, il prof si sta arrostendo vivo! Si sta trasformando in qualcosa di strano! Sbrigati, Polletto, dobbiamo uscire subito di qui! Andiamo, 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 scappiamo, scappiamo! Oh no, Polletta, guarda che casino che hai fatto! L'uscita è completamente bloccata! E sta andando tutto completamente a fuoco! Ehm, scusami, stavo solo cercando di salvarti, eh! Oh no, Polletta, dobbiamo assolutamente scappare da un'altra via! Perché? Ah ah ah, pensavate di poter scappare! Bambocci! Perché il dottore si è risvegliato! Via, 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 scappiamo, scappiamo! Seguimi, seguimi, Polletta! Ok, dobbiamo passare di qui! Qui c'è un'altra via di fuga! È molto pericoloso, stai attenta, potremmo scivolare! Ci sta per raggiungere! Scappiamo, scappiamo! Ok, Polletta, ora dobbiamo saltare di sotto! Saltare? Ma io ho paura dell'altezza! Dobbiamo farlo! E subito! Sta per arrivare il professore passo! 3, 2, 1... Coca-Cola Never Die! Che cosa è successo? Avete una faccia che sembra che avete visto un fantasma! Tu stai bene, Polletto? Che cosa gli ha fatto quel pazzo? Non lo so davvero, ragazzi! So che mi ha iniettato qualcosa di strano! Però, ora sta arrivando la polizia! E dobbiamo scappare! Via, 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 via! Tanti auguri a te! No, 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 no! Ferma un attimo, Polletta! Lui mi deve una Coca-Cola! Non so se te lo ricordi, Polletto! Lo so che è il tuo compleanno! Però, me la devi! Polletto! Ehm, e poi l'ho bevuta! What? Come l'hai bevuta? Ma io ho rischiato la vita per quella Coca-Cola! Ma dai, smettila di fare lo scemo! È il giorno del suo compleanno! Non puoi chiedergli queste cose! Fai come sta facendo il pollo Giuliano, che sta ballando da quando siamo arrivati! Godermi la festa, dici? Guarda chi è appena arrivato! Che cosa state facendo tutti qui? Ehm, bullo! Questa è la festa del nostro amico! E io non ti permetterò di rovinarla! Quindi, per favore, potresti gentilmente andartene? Ha 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 ha! Ah, ok, ma lasciami dare la torta al tuo amico! Oh no! Cosa? Polletto! Vi hai letteralmente tirato la torta in faccia! Sì, sei stato bravissimo, Polletto! Impressionante, Polletto! Che colpo! Sì, davvero! Ma cosa mi sta succedendo? Oh no, fatemi correre in bagno! Guarda il mio braccio come è diventato grosso! Oh mio Dio! Sto diventando colore ciano! Hmm, ragazzi, il Polletto si sta comportando in modo strano, non credete? Oh no, Polletti! Che cosa faccio? Che cosa faccio? No, non ci posso credere! Mi sto letteralmente facendo la cacca sotto! Mi sto trasformando! Non mi possono vedere così! Ah, ti ho trovato! Sei qui! Oh no! Non adesso, ti prego! Hmm, non sono qui! Te la farò pagare! Cosa? Oddio! Chi è quel mostro? Oddio, Polletti! Mi sono trasformato per un attimo! Meno male che sono ritornato normale! Devo far finta di niente! E uscire di qui! Hmm, ciao ragazzi! Polletto, ma va tutto bene? Abbiamo visto il bullo che usciva dal bagno spaventatissimo! Hmm, sì, sto bene! Non ho idea perché il bullo abbia fatto così! Forse ha sentito la mia puzza di cacca, ma... Sapete che vi dico? Che forse è arrivata l'ora di andare un po' a giocare all'aria aperta! Mi sento proprio strano, ragazzi! Ho bisogno di un po' di aria! Quello che ho visto prima era il Polletto! Aveva la sua stessa voce! Ehi tu! Vieni qui! E tu chi sei? Io posso aiutarti a diventare più forte! Avrai una forza mai vista prima! Vieni con me! Finalmente! Dodgeball! Uhuh! Vai insieme, Polletti! Prendi questo, Polletto! Vai insieme! Oh no, Polletta! Hai tirato la palla dentro la metro! Scusatemi, mi dispiace! Dai, vado subito a riprenderla! Aspettatemi qui però, eh! Non giocate senza di me! Col cavolo! Noi giochiamo e come! Ha 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 ha! Ma cosa è stato, Polletti? Ho sentito un'esplosione! Devo andare subito a controllare! Aspettatemi lì! Arrivo subito! Ma che cosa è successo qui? Sta andando tutto a fuoco! Attento! È una trappola! Una cosa? Ha 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 ha! Pensavi di esserti liberato di me, eh? Non sei più l'unico ad avere i poteri! Poteri? Polletto, ma di cosa sta parlando? Non lo so neanche io! Non fare finta di niente! Prendi questo! Ora alzati e affrontami! O prenderò la tua Polletta e la cartoccerò come un foglio di carta! Prendi questo, Polletta! Oh mio Dio! Ma cosa sta succedendo? Alla fine ti sei mostrato per quello che sei realmente! Stai zitto! Ora sono stanco! E mi costringerai a fare questo! Polletti, mettete subito mi piace! Per darmi la forza! Per fare la bomba atomica! Palla di energia della bomba atomica! Polletta, sbrigati! Dobbiamo andare via! Sta per esplodere tutto! Via, via, via! Scappiamo, scappiamo! Siamo attenti, siamo attenti! Qui esploderà tutta la metro! Oh no! Come non detto! C'è lo scienziato pazzo! E ha rapito i nostri amici! Ha 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 ha! Eccoti qui! Che cosa stai facendo con i nostri amici? Lasciali subito andare! Li trasformerò come ho fatto a te! No, non puoi! Non voglio capire il mio stesso destino! Allora dovrò iniettarla a te! E poi i miei amici saranno liberi! Fermo, fermo Polletto! Non farlo! Ok, va bene! Sembra che io non abbia più altra scelta! Ha ha ha! Farà molto male questa volta! Non ci provare! Oh mio Dio, Polletti! Che cosa è successo? Il bullo mi ha salvato! Nessuno fa il bullo oltre a me! Oh mio Dio, Polletti! Penso che è la prima volta che provo ammirazione per il bullo! Mio Dio! Ma mi sento strano! Che cosa? Che cosa sta succedendo? Polletto! Finalmente ti sei svegliato! Svegliato? Sì, e sei tornato normale finalmente! Ma cosa mi è successo? Quello scienziato pazzo che fine ha fatto! E il bullo? Lo scienziato pazzo è stato arrestato! A te è scaduto l'effetto di Ciano! E il bullo? Non si ricorda di nulla! Quindi mi state dicendo che il bullo non si ricorda che io gli ho tirato una torta in faccia? Ah, ti sei svegliato! Avevo proprio voglia di picchiare qualcuno! Ti aspetto fuori! Va bene, ma prima che mi picchi il bullo! C'era una festa che dovevamo finire, giusto? E' ancora il tuo compleanno, no? E' un polletto! Sono passati 30 giorni! 30 giorni? Polletti! Questo è stato il roleplay del polletto che si trasforma in Ciano! Se vi è piaciuto lasciate un bel like! Ed iscrivetevi al canale per venire a giocare con noi in live! Noi ci vediamo alla prossima avventura su Brookhaven di Roblox!